E ciao a tutti ragazzi per questo nuovo video, sono LoraGistro7 e oggi ragazzi vi farò vedere tutto In realtà vi riassumerò il Brawl Talk, iniziamo subito Ecco ragazzi, il nuovo leggendario Meg Queste qua sono le sue animazioni E ora vi spiegherò come attacca e tutto Ragazzi attacca anche come una specie di Maxine Quindi, e poi la sua super è... Ragazzi come vi stavo dicendo la super è praticamente diventa un robot Che ripara dei distributori e diventa inarrestabile Quindi avete capito che praticamente con questo robot Perché in realtà Meg non è un brawler che ha troppa vita Però con la super diventa praticamente un tank E distrugge tutti Tutto Comunque ragazzi vi ho spiegato in pochissime parole Il nuovo Brawl Talk Perché in realtà era praticamente il nuovo leggendario Comunque ragazzi se in questo video arriviamo a 20 like entro 3 giorni Ricontinuerò questa serie però con altri Brawl Talk Comunque ragazzi io ho creato un nuovo club Che si chiama Passa al Suco Comunque lo facciamo subito entrare Comunque ragazzi non l'ho potuto scrivere perché non mi faceva entrare Comunque ragazzi siete tutti i soci anziani E vice su fiducia Comunque ragazzi spero che questo video Anzi questa premiere vi sia piaciuto Lasciate un bel like al canale E ciao